Haber al-Sabre, spero di averlo pronunciato bene, mi scusi se ho una pronuncia sbagliata. Oggi ha colto appunto più di cento artisti conolienti da tutte le parti del mondo, come fossero più di cento rami di olivo, per la pace che si agitano dinanzi a più di cento coscienze sveglie e pronte. Con la nuova venuta appunto in questa accogliente casa di Rakhian, oggi si accende la candela che brucia la sua fiamma pura per la pace, illuminando ogni angolo oscuro di questo vasto mondo. Permettetemi, Gittine e Signore e Signore, di presentarvi su eccellenza l'Ambasciatore Haber al-Sabre affinché vi racconti di questa esperienza umana incarnata nella promozione di questo secondo festival internazionale. L'Ambasciatore, prego, noi la ringraziamo infinitamente di questa ospitalità e della sua persona. Prego. Bismillahirrahmanirrahim, a tutti i miei membri sui e signori e signori, a tutti i miei membri sui e signori, la mia amica di amici Grazie a tutti La promozione del festival e questa seconda intercorre una stagione ricca di donazioni, di consensi ed entusiasmi che hanno spronato la nostra ambasciata e i suoi amici a non smettere mai neppure un giorno di dare il proprio contributo per la diffusione dell'amore, la promozione del dialogo e l'ideazione di soluzioni che possano contribuire a sollevare l'umanità del pardello dei suoi incubi generati dalla violenza armata. Dal fanatismo, dalla crisi e da tutte quelle fratture che hanno ormai infestato ogni singolo ambito della nostra vita. Per questo fine umano e sincero mettiamo in libertà tutto ciò che fa parte del nostro bagaglio spirituale, le colombe della pace, le candele della speranza e l'universo del dialogo, cogliendo l'ispirazione da ciò che le religioni celesti ci hanno insegnato a partire dalla profondità della tolleranza edificante che il Santo Padre più volte ha sottolineato e a cui da sempre ambisce il nostro nuovo era democratico pluralista per quanto possa. nostro paiello, il nostro corso, il nostro corso delle corso, il nostro corso, il nostro corso, è tutto il nostro corso e di direzione, E' un becicio di l'amore e linee e fissure e anche di un Hyunji Nabila e non c'era nessuna ed è un cannolo e non c'era una leccia e non lo ha accaduto con la vita Le fissure skyscraphe e il nintagione cacciata che si puoi affacciare un amore di concentrere L'amore, la pace e il dialogo sono multiformi aspetti luminosi di un unico progetto missionario per il quale Dio ha inviato i suoi profeti e missionari. Per dare vita a tale progetto ha piegato alle nostre esigenze penne, colori, corde, scalpelli e voci nobili. Li ha animati con la fiamma della creatività, fornendo l'ispirazione e nutrendone la fuga in ogni iniziativa. Affinché non risparmino sforzo alcuno, né pensieri né una sola goccia di colore è stata versata se non per riprodurre i vocaboli stonati della vita alterata, per trasformarli in espressioni creative capaci di veicolare profondi messaggi alla stregua di una bevanda piacevole che non appena la si gusta il suo buon sapore scorre nella mente e nella coscienza da essa ritemprata. E che quando ti vedo la salita della farina, in questo panorama lasciarmi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti